Una lunga notte di fuoco a Palermo e in provincia. I vigili del fuoco forestali sono stati impegnati per ore per spegnere le fiamme ad acqua dei corsari nella zona di vicinale Carmine. All'inizio dell'intervento sono stati i residenti a scongiurare che le fiamme lambissero le abitazioni. Alla fine le fiamme sono state spente dopo ore di intervento. A Palermo per ore i pompieri sono stati impegnati anche nella zona di via Oreto e della guadagna che è stata avvolta da una coltre di fumo che ha reso l'aria irrespirabile fino a tarda notte. Altro incendio molto vasto di nuovo nella zona industriale di Termini Merese. Le fiamme anche in questo caso hanno lambito le abitazioni. E nella stessa notte appena trascorsa a Palermo è arrivato improvviso il maltempo. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo idrogeologico ed idraulico valido fino alle 24. Il livello di allerta è di colore giallo. A scopo precauzionale il comune di Palermo ha disposto la chiusura di ville e giardini per tutta la giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.